Questa sera faremo un po' di passaggi tra un mondo e un altro, perché oltre ad essere celtico questo strumento è anche molto mediterraneo. Infatti vi suonerò un brano che si chiama Hal Jamia, che è un brano di ispirazione molto più latina, molto mediterranea in un certo senso. Infatti questi due strumenti rappresentano un po' la mia anima, cioè il Mediterraneo e il celtismo. In genere si chiamano arpa irlandese e clarsach, che è una parola bellica. Il clarsach è l'arpa con le corde in metallo, è della vera arpa celtica. Portandola poi nel continente verso il 1500-1600 si è perduta questa tecnica dell'arpa con le corde in metallo perché è molto complessa, ha bisogno di unghie, ha bisogno di una tecnica di smorzamento molto complessa. Però l'arpa in sé è uno strumento che arriva da molto lontano, ha circa 4000 anni. Pensate agli assiro-babilonesi, agli egiziani, agli ebrei, David, se non aveva il kinor, per cui il nome arpa è un nome abbastanza recente, avrà tipo 6-700 anni. Poi passa ai greci, Umero, Umero era un arpista ad esempio, un cantore, un po' come nei Bardi, celtici che cantavano e raccontavano storie. E poi passa ai Romani e poi arriva anche i Ecclesiasti che la portano, come dire, in un certo senso su in Irlanda e prende la forma di arpa. Però il suo nome, appunto, tra Irlanda e Scozia si chiamava Clarsar. Le musiche di questo strumento si sono perse nei secoli, perché la tradizione era orale, per cui il canto e la ripetizione orale ha creato una specie di continuità su questo strumento. Poi si è persa fino a quando i pretoni, il mio maestro Nastivelli, negli anni tipo 50, ha incominciato a fare un recupero su questo strumento. Grazie a tutti! 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 Un altro brano che si ispira soprattutto alle antiche storie dell'Irlanda, in questo caso alla musica barocca italiana e alla musica barocca irlandese, il brano si chiama e la musica barocca l'Irlanda, in questo è un'altra musica barocca. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.